FIFA 22 è già disponibile sul sito di Niba quindi per coloro che fossero interessati a comprare la chiave del gioco per PC o per Xbox One è già disponibile all'interno del sito con le pre vendite e con sconti decisamente interessanti. 45 euro per la versione inglese PC 49 per la versione globale per PC 61 per la versione Xbox quindi mi raccomando ragazzi oltretutto codice sconto Mr.FM per avere un ulteriore sconto tutto questo qui sotto sul link sul sito di Niba. Ben ritrovati i mici appassionati di calcio in questo nuovo episodio che è la nostra carenatore con il nostro Bologna qui su FIFA 21 sul tavolo delle trattative per cercare di strappare Federico Bernardeschi alla Juventus e cercarlo di prendere a delle cifre normali per un giocatore che in realtà per l'overall che ha secondo me quella cifra quel valore va più che bene perché alla fine stiamo parlando di un giocatore che non è almeno nel gioco una prima scelta della Juventus un giocatore che può svolgere due ruoli almeno due COC e anche come ala invertita a destra visto appunto il suo piede preferito che è il Mancino e volevo naturalmente provare a prenderlo perché noi là davanti abbiamo Orsolini Almada ma non dei validi sostituti di questi due giocatori e di conseguenze come un giocatore come Bernardeschi può assolutamente fare al caso nostro. Io direi di partire dalla base insomma dal suo valore quindi proporre un 17 milioni e 500 mila euro e vedere la risposta della Juve che secondo me potrebbe anche accettare senza fiatare perché appunto abbiamo parlato abbiamo detto che è un giocatore che non è una primissima scelta non l'abbiamo praticamente mai visto tra i titolari e quindi esattamente il rappresentante della Juventus decide di accettare. Ora tocca a noi, tocca a noi, a Bernardeschi e dal suo agente. Con il trucchetto che mi avete insegnato 73 mila 100 mila lo stipendio di Federico Bernardeschi soldoni. Molto probabilmente potrebbe davvero essere il giocatore più pagato del Bologna quindi comunque tanto alternativa di Orsolini o alternativa di Almada. Qua stiamo parlando davvero di uno stipendio di un titolare, di un vero e di una stella. Adesso vedremo anche il ruolo della squadra. Io andrei su importante anche se forse questo potrebbe far arrabbiare. No ok pensavo in un ruolo diciamo cruciale. Va bene, importante. Durata del contratto io penso di fare i soliti 4 anni. Secondo me vista l'età possono andare bene solo due, solo due. È una scelta bizzarra ma l'accettiamo. E tocca parlare dello stipendio che non stavo neanche appunto modificando quindi ci sarebbero stati dei problemi. Allora abbiamo detto tra i 70 e i 100.000 io proporrei un 75.000 e anzi facciamo magari un 75.000 secondo me ci può assolutamente stare. Vediamo anche perché ragazzi sono l'ultimo ruolo di mercato quindi se sbagliamo non abbiamo poi una seconda opportunità. Accettano quindi 5.000 di meno rispetto a quelli che percepiva con la Juventus. L'aggiornamento di FIFA completato e abbiamo pure Federico Bernadeschi. Conosciamo Bernadeschi? Assolutamente sì. Non abbiamo pretese per quanto concerne poi il lavoro difensivo del giocatore perché non ha le qualità per saper difendere. Non ha esempio elevazione quindi molto attenti poi sulle seconde palle perché sicuramente raramente vincerà insomma un duello aereo. Non ha forza, non ha intercettazione, non ha la lettura a punto difensivo come dicevamo un voto 64. Percisione di testa molto vicino al suo valore poi per quanto riguarda la massima elevazione. Scivolata a 50. È un giocatore da tre quarti campo. È un giocatore che inventa sulla tre quarti campo, che cerca di saltare l'uomo. E ha anche un buon tiro da fuori a classe, dribblatore tecnico, tiro di esterno. Insomma è un elemento di fantasia che rischia la giocata e ce l'abbiamo in squadra. Akeiro Tomiasu, l'ex della partita, difensore ormai titolarissimo alla Lazio. E siamo arrivati dall'Ara per iniziare questo primo match di giornata contro i Bianco Celesti. Che i Bianco Celesti hanno davvero ben poco in questa partita. Con la maglia verde fluo. Questa calda serata di settembre dove c'è appena stata la pausa dei nazionali. E dove, come ben sapete, tra pochi giorni si inizia a fare sul serio. Perché per noi ci sarà un debutto storico importantissimo in Europa League. Dove sì, giocheremo il giovedì sera. Dove sì, speriamo di vivere tanti giovedì davvero ad altissimo livello nel corso di questa stagione, di quest'anno. Ma soprattutto poi dell'anno a venire. Perché, qualora se giocasse di giovedì anche nell'anno nuovo, significa solo una cosa. Ovvero che abbiamo superato il girone, che siamo ai sedicesimi, ottavi, quarti. Insomma, ce la vogliamo godere questa Europa League? Assolutamente sì. Di Marco Izzo, Lovato di Lorenzo, con Sirigu in porta. Centrocampo a due con Dominguez Ricci a lavorare sulla mediana. E non solo. Sulla tre quarti, Salcedo, Almada, Orsolini là davanti. Il ritorno titolare dell'Italo, brasiliano Brenner. La 18, numero di maglia di Bernardeschi, lasciato in panchina. Ma sicuramente pronto a subentrare nel corso di questo match. Non subito titolare, vogliamo farlo ambientare bene, con calma. Senza forzare troppi tempi. Foto di rito del Bologna, in attesa adesso anche della formazione Lazio, per vedere se si sono rinforzati rispetto alla stagione passata. Anche se rivediamo alcuni elementi. Ci sono le conferme di tanti elementi importanti. Come ad esempio il portiere Stracoscia, con il numero uno, la difesa tre formata da Tomiaso, Wavro e Tarkovsky, direttamente dalla Premier League. E Scalante sulla mediana, questo l'avevamo già visto nella passata stagione. Poi Bardi, Lodeiro, Eggestein e Gelson Martins. Attenzione, Correa Muricci là davanti. Attenzione alla fascia destra, con un giocatore che non è tanto, secondo me, un giocatore per fare così il braccetto di centrocampo, ma è sicuramente un validissimo giocatore, un'ala molto pericolosa. Sucu Correa, a servire Bardi. In velocità, supera Di Lorenza. Attenzione al pallone sul secondo palo, il colpo di testa vincente. Parte di Lovato e Dominguez può ripartire, il Bologna può ripartire con Thiago Almada, che serve Salseda. Attenzione ad Almada, attenzione ad Almada, che si è creato lo spazio. Salseda gli ha dato un pallone strepitoso. Almada la controlla, benissimo! La controlla la grande, Thiago Almada. 1-0 del Bologna, immediato. Et voilà! Bologna in vantaggio, 6 minuti. Primo a fondo, primo contropiede. Lazio subito punita, con una splendida giocata a parte di Salseda Almada. Andiamo a rivedere, poi non serve a nulla l'intervento difensivo da parte dei giocatori della Lazio, anche perché la difesa è proprio presa in controtempo. Li forse a difendere addirittura Martins poteva essere in quell'occasione per nulla adatto in quel ruolo. Thiago Almada festeggia con Ricci il gol dell'1-0. Io non voglio dire niente, ragazzi, anche perché è appena iniziata la stagione. Mancano ancora un sacco di partite. Però, ragazzi, quanto diverso questo Bologna rispetto alla pre-season, quanto diverso anche questo Bologna rispetto alla stagione passata. Brenner, attenzione Almada, prova a calciare col Mancino. Non era mai l'idea. Grande invenzione da parte di Brenner, anche se lì forse avrei preferito la giocata individuale da parte del tuo brasiliano, che forse non ci ha creduto abbastanza. Ma continua, ragazzi, ad attaccare il Bologna. Lodeiro, attenzione lì a Dominguez in scivolata. Allora Correa prova a sfondare ancora Lodeiro. E c'è il pareggio della Lazio al quindicesimo. Dopo esattamente dieci minuti, il pareggio col capitano Lodeiro. Andiamo a rivedere qui Correa. Un po' così la nostra difesa. Poi a rimorchio Lodeiro, anzi, l'inserimento spettacolare di Lodeiro che va poi a finalizzare con l'esterno sinistro. Nulla da fare per Sirigu. Da 1 a 1. E starà attento Lovato. E bravissimo. Un coraggio a lasciare la sua posizione. Andare a rubare il pallone all'argentino, ma il possesso è ancora del Tuku. Allora il passaggio. Il sinistro è il miracolo di Sirigu. Ria, c'è Izzo che lo segue. Attenzione perché abbiamo perso l'uomo. Dobbiamo andarlo a recuperare. Allora Lovato, vediamo se chiude. Attenzione a questo bellissimo passaggio. Sirigu! Altrettanto bella la parata dell'ex Toro. Falle in mezzo. Il colpo di testa. Di nuovo Sirigu. Questa volta il pallone va allontanato. Va spazzato. Ancora però sempre la Lazio. Allora Sirigu. Può bastare così. C'era anche forse falle in attacco. Borsolini. Il lancio perfetto per Almada. Mamma mia ragazzi che numero di Almada. Attenzione Almada perché lo stava per fare straordinario Almada. Poi clamorosamente colpisce male il pallone. Che giocata ragazzi Tego Almada. Ormai lo possiamo davvero dire che è diventato praticamente il migliore livello di qualità che offre sulla tre quarti campo e non solo del nostro Bologna. Zaccagni. Nuovo colpo della Lazio. Lodeiro. Zaccagni. Attenzione Lodeiro. Non servito. Si allarga il gioco allora dove c'è Martins. Intentare quindi di saltare l'uomo. Anche se Martins si va a complicare la vita. Facendo un qualcosa di strano, particolare, inutile. Se vogliamo dirla tutte. Allora Brenner. Borsolini. Si crea lo spazio Orsolini. Serve un pallone perfetto per Almada. Le deve soltanto appoggiare. E c'è il gol ragazzi del Bologna. Torna in vantaggio con Brenner. Ce la siamo rischiate un po'. Ma alla fine finalizza il 9 per il gol del 2-1. Tutto nasce comunque da una grande invenzione a parte di Riccardo Orsolini. Non andare ad allargare il gioco. Non andare poi a servire Tiago Almada perché è stato anche lui ad allargare. Ha fatto un gran lavoro. Poi calcio di rigore sarebbe stato. Perché l'abbiamo visto. La segnalazione del vantaggio. Vantaggio che per nostra fortuna è andato a buon fine. Perché Brenner segna il minuto 67. È la sua prima, speriamo, di tante reti in questa stagione. Brenner sta per arrivare il momento di cambi. Sta per arrivare il momento di colui che se la rischia. Colui che fa cose. Federico Bernardeschi direttamente dalla Juventus. Intanto Orsolini. Salcedo lo scatta. Attenzione. È di Salcedo di testa. Troppo debole. Strana conclusione da parte dell'ex Inter. Lazio qui in superiorità sulla tre quarti. Poi interviene il subentrato Armini. Calcio d'angolo. Ultime possibilità. È anche uno Lazio adesso che cerca di portare più giocatori da davanti. con gli ultimi cambi. Allora prepariamoci per fare su un esterno. E molto probabilmente avremo Martins come terza attaccante. Intanto attenzione. Bernardeschi. Ecco Federico Bernardeschi. Prima occasione appunto per l'ex Juve. Attenzione Bernardeschi perché nel frattempo zitto zitto ha provato così a dare fastidio alla difesa avversaria. Bernardeschi! Mamma mia! Ottimo lì nel recupero del pallone. Finalmente un primo piano. Il pallone lì guardate molto vicino al secondo palo. Siamo se l'abito lascia giocare. Ultimo a fondo della partita a favore del Bologna. Invece può finire qui. Non l'abbiamo sfruttato ma si portano a casa tre punti ragazzi. Continuano ad arrivare punti preziosi per il Bologna. Partendo naturalmente dall'obiettivo quello classico. La salvezza per poi naturalmente puntare quest'anno a qualcosa di molto più importante. Il molto più importante sarebbe una qualificazione. Per la coppa dalle grandi orecchie. Però nel frattempo ragazzi godiamoci questo momento. Anche perché nella passata stagione contro certe squadre non era facile nemmeno pareggiare. Quest'anno riusciamo addirittura a vincere. Vincere poi oltretutto con quelle statistiche. Perché le avete viste. So che le avete intraviste. Lo so bene. Con quelle statistiche che davano sicuramente ragione alla Lazio. Meriti più che altro alla Lazio. Ma è andata così. Avete anche visto che non abbiamo fatto dei colpi all'ultimo. Alla fine il Bologna rimane questo. Una squadra. Una rosa lunga. Per naturalmente far fronte a queste difficoltà. Tutte queste partite. Adesso però in campo. Per la prima storica in Europa. Il riscaldamento da parte dei nostri avversari. E ci siamo. Perché lo stadio è andato dall'area. Si tinge poi di quell'illuminazione. Di quelle luci. Di quei colori. Di quei contrasti. Di quel gioco di luci. Che ci fa intendere che questa è la UEFA Europa League. E che adesso partirà un inno. Che i tifosi del Bologna ascolteranno dal vivo per la prima volta. L'avranno ascoltato tante volte. Ma non un protagonista della propria squadra. L'informazione ragazzi è abbastanza particolare. Ve lo dico. Perché appunto vogliamo sottare questa rosa lunga. Ma vogliamo anche sottare la qualità. Della nostra rosa. Perché comunque abbiamo anche una panchina di qualità. Che ci può permettere di poter praticamente schiarare in campo due squadre. Ma vedremo insomma se queste due squadre. Questo Bologna A, Bologna B. Saranno comunque all'altezza. E riusciranno comunque a regalarci punti, gioie, emozioni importanti. La competizione delle maglie belle. Partendo dallo standard Liegi. Si presenta con questa maglia decisamente carina. Decisamente interessante. Con queste strisce orizzontali rosse. Un po' sbiadite. E comunque più classica. Però con quella differenza. Anzi con quelle due differenze. Con quelle due patch. Una dell'UEFA respect. E l'altra dell'Europa League. Applicata sulla manica destra. Tra i pali Buffon. Ruggeri e Cerbi Pirola. Formare la difesa a quattro. Con Zappacosta naturalmente. Poi Dominguez, Castrovilli. Tre quarti. Cacace, Vignato, Bernardeschi. Da davanti. Metagna. C'è anche il 6. C'è anche Cacace. Che torna a titolare. Nel ruolo di ala sinistra. Fai. Muleca. Di nuovo per Fai. Bologna bloccato. Sulla fascia sinistra. Con l'indecisione da parte di Fai. Che alla fine decise di arretrare. Servire poi orizzontalmente il compagno. Ma rimanere comunque sulla tre quarti. Di nuovo a lavorare. Sulla loro fascia destra. La nostra sinistra. Davvero sono diversi minuti. Con questo intenso giro palla. Attenzione però adesso. Perché salta l'uomo. Palla in mezzo. Ed è un super gol. Da parte dello standard Leggi. Giro palla che alla fine ha funzionato. Gol di Balic. Balic di Shah. Non lo so. Lui comunque. Con la 32. E qui. La nostra difesa. Che si è lasciata in palla. Per inserire. Bravissimo lui nel tiro di prima. Comunque il non facile. Nonostante comunque il palo scoperto. Con Buffon. Che rimane fermo. Non tenta neanche. Il tuffo. Michel Hanghe Balic di Shah. Mi dispiace. Per coloro che sicuramente conosceranno meglio questo giocatore. Le stiamo rendendo giustizia. Il nome pronunciato malissimo. Ma ciò che conta purtroppo ragazzi. È da segnalare questo dato. Questo aggiornamento più che altro. Ovvero che i nostri avversari sono avanti di una rete a zero. Però subito. Attenzione il Bologna con l'affondo di Zappacosta. Calcio d'angolo. Per Pirola. Allora Vignato. Può scattare Petagna. Attenzione. Buono nel controllo a seguire. Petagna. L'abbiamo detto ragazzi. L'abbiamo detto. La davanti. Finalmente abbiamo trovato un vero attaccante. Uno che magari non tocca tanti palloni. Ma quelli che tocca poi li trasforma in gol. Petagnone Petagna. Subito 1-1. Pareggio quasi immediato. Al minuto 26. Questo sinistro violento. A cercare di trovare il secondo palo. Ci mette la forza. La precisione Petagna. Balikbiscia. Adesso forse l'abbiamo pronunciato in maniera corretta. Attenzione a questo pallone velenoso. Sul secondo palo. Castrovilli. Petagna. Vignato. Stiamo di cambiare lato nella zona di Federico Bernardeschi. Dove non arriva sul pallone. Ci arrivano invece i nostri avversari. Che comunque stanno svolgendo un ottimo primo tempo. Petagna. Che Bernardeschi. Ma l'errore dello standard è stato quello di lasciare spazio a Petagna. Forse consapevoli che non è un giocatore che ha un ottimo tiro dalla distanza. Un giocatore che riesce ad essere preciso, efficace, letale. All'interno dell'area di rigore. Un po' meno da fuori. Però ampi spazi. Se ne ha lasciato la nostra attaccante. In merito anche poi del lavoro da parte dei nostri giocatori che lavorano sulla tre quarti. Vignato e Bernardeschi. Attenzione ancora. Di nuovo il 32. E il vantaggio dello standard. Andiamo a rivedere questo gol. Purtroppo brutto errore da parte di Pirola. Non lo teniamo bene. O meglio cerchiamo di metterlo in difficoltà. Ma comunque riesce a girarsi. Siamo fidati poi del rientro da parte di Zappacosta. Che però purtroppo non era posizionato bene. E nonostante comunque ancora una volta stiamo comunque commentando un gol dove Buffon non era fuori posizione. Aveva occupato bene comunque il palo lì però. Tiro troppo forte da parte dell'attaccante dello standard. E di nuovo il vantaggio. Di nuovo loro. Avanti di una rete. Bravo Zappacosta. Bravo Zappacosta. Allora può ripartire in contropiede il Bologna. I nostri avversari forse non hanno studiato bene. I numerosi gol che abbiamo fatto in contropiede. Allora attenzione a Bernardeschi. Perché deve rischiare la giocata. E lo fa. Con questo tiro interessante. Palaschi va a finire sul primo palo. Abbastanza facile per riportire l'avversario. Poi Dominguez non riesce nel controllo. Comunque sta tornando il Bologna. Corner con Bernardeschi. Attenzione lì Brenner. Non ci arriva. Allora eccolo di nuovo Federico Bernardeschi. Pallone ce l'ha sul destro. Ci prova comunque. Vediamo se avremo l'occasione. Per assistere a un'ultima opportunità. L'ultimo possesso. È per il Bologna. Brenner. Temporeggia. Forse troppo. Attenzione perché cerca di vedere Vignato. Brenner. Attenzione al Dai Vai. Brenner. Brenner. Mamma mia Brenner all'ultimo. E l'italo brasiliano è diventato grande in quel di Bologna. 2-2. Esplode il Renato Dallara. La gioia di Buffon. Perché anche grazie a lui. Abbiamo ottenuto questo pareggio all'ultimo. Non fosse stato per quelle due parate. Soprattutto l'ultima. Molto difficile. Molto complicata. Questa azione. Se l'è costruita Brenner. Poi bravissimo lì Castrovilli. Comunque nell'andarlo a servire di prima. Perché aveva capito le intuizioni dell'italo brasiliano. E poi. Veloce. Veloce. Nel controllo di destro. La palla lenta. Ma comunque la palla che finisce lì. Ed è ancora più bello. Vedere questo. Pallone. Che quasi al ralentatore. Finisce dentro la porta. Del portiere avversario. E finisce soprattutto la partita. Col Bologna. Che non perde la prima. In Europa League. Perché la prima in Europa non si scorda mai. È una partita pazza. È un Bologna pazzo. Ma è 2 a 2. Il risultato. Bene. Vento Bologna. Chiudiamo l'episodio con questa partita. Per ora ragazzi. In attesa di questo risultato. Secondo me l'episodio è. Ampiamente positivo. La prima in Europa League. Non è mai facile. Sappiamo comunque. È una competizione difficile. È una partita in più. E noi non siamo abituati a giocare comunque tre volte nel giro di una settimana. Quindi avremo modo di abituarci. Avremo modo anche di capire cosa poter fare. Di sicuro non abbiamo affrontato l'avversario più forte del girone. Poi anche lì nel prossimo episodio sicuramente spazio anche alla conoscenza poi dei nostri avversari. Ha un piccolo focus sui nostri avversari. Però nel frattempo concentrazione perché c'è questa partita col Benevento che sinceramente non vorrei perdere. Stanno mettendo un po' le strette. Continuano a mantenere il possesso del pallone. E c'è appunto il gol di Ibu Bisse. E direi che a questo punto bisogna andare in campo. Bisogna sistemare questa partita. La Padula. Gaic. Letizia. Quella fascia lì. Dove andiamo troppo spesso in difficoltà. Ancora Letizia che riesce comunque nell'appoggio. In crisi un po' la nostra difesa. Con Lovato che esce dalla propria posizione per andare a pressare il terzino. Ancora di nuovo il Benevento. Sempre lì. Non riusciamo ragazzi a intervenire duramente sull'avversario. In maniera... Oh, finalmente Lovato. Finalmente Lovato. Borsolini. Castrovill. Il pallone gli capita un po' così a caso. Allora Almada vede Petagna. Si è allargato benissimo lì Petagna. Però purtroppo inizia ad essere stanco. Il Benevento ha fatto un'ottima partita. Ordinata. Pulita. Precisa. E soprattutto senza comunque chiudersi più di tanto. Nel senso che comunque attaccano. Continuano a farlo. Stanno giocando molto bene. Allora di nuovo loro possono così avere l'opportunità di chiudere la partita da davanti. Invece no. Invece no. C'è ancora speranza. E ancora una volta godiamoci questi secondi finali. Con l'ultima azione della partita. Berna. In entrato Bernardeschi. Crede è magico vedere un suo spunto, un suo assist, un qualcosa. Invece è stato un pallone impreciso. Riccardo Orsonini poteva anche tentare la giocata personale. Non si è fidato. Non si è fidato. Finisce qui l'episodio. È l'episodio così giusto, corretto. Nel senso a livello di risultati ci sta. Perché una vittoria è un pareggio e una sconfitta. Analizzando le squadre che abbiamo affrontato ci può assolutamente stare. Il problema è con chi abbiamo fatto risultato e con chi non abbiamo fatto risultato. Perché abbiamo battuto la squadra più forte. Quella dove teoricamente avremmo dovuto perdere. Ovvero contro la Lazio. Abbiamo perso contro la più debole. Ovvero il Benevento. E forse il risultato più corretto è stato proprio quello in Europa League. Dove abbiamo pareggiato contro una squadra dove ci poteva tutto sommato stare il pareggio. Vedete anche comunque il resoconto di questo secondo tempo. Dimostrazione comunque non c'è stato assolutamente nulla da vedere. E ci lasciamo con questa classifica. Con un solo punto di stacco dalle prime posizioni. Perché in realtà Milan, Napoli e Inter sono tutte lì. Prime praticamente. C'è soltanto una differenza a reti. Che separa appunto queste tre squadre. Però appunto sono davvero pochissimi i punti. Solamente due per poterle poi andare a superare. Ci vediamo ragazzi nel prossimo episodio. Continuerò l'Europa League. Mi raccomando voi continuate col supportare questa serie. Alla prossima. Ciao a tutti.